buongiorno il titolo ideale di questa puntata potrebbe essere polonia perché no in quanto il paese è una meta rivelazione del panorama outgoing del mercato italiano in questi ultimi anni ne parliamo con margherita furdal direttrice dell'ente nazionale polacco per il turismo andrei cavo awek direttore per l'italia della compagnia aerea di bandiera lot e rizzer chet narski presidente della holiday travel uno dei principali tour operator specializzati sulla destinazione polonia allora signora furdal quali sono stati i risultati eclatanti di della scorsa stagione e quali possono essere i presupposti per consolidare queste performance io vorrei dire che c'è stato l'anno scorso un boom del turismo in polonia sono arrivati più di 58 milioni di stranieri con un incremento dell'otto per cento rispetto all'anno 2009 e dall'italia questa è una grandissima sorpresa più di 370 mila arrivi il che significa 12 per cento dell'aumento questo potrebbe significare che sta iniziando una nuova tendenza una moda che la polonia diventi di moda cosa che ci auguriamo anche perché le mode come sappiamo vanno e vengono e la polonia da un po di tempo non era forse la prima destinazione prediletta degli italiani invece adesso ci sono dei presupposti che questa diventi così quindi mi sembra di capire che l'italia è uno dei bacini di traffico più importanti di questi ultimi anni per la polonia anche in termini di risultati di crescita del flusso turistico esatto il 12 per cento significa che il mercato italiano l'aumento è il più alto di tutta vecchia europa chiamiamola così ci sono dei presupposti che la polonia possa rispondere a tutte le aspettative degli italiani per quanto riguarda i viaggi emersi da dagli ultimi risultati delle ricerche marketing da cui viene fuori che prima di tutto si cerca sempre di più destinazioni più vicine la polonia ricordiamoci è più vicina al nord italia della sicilia e quindi raggiungibile benissimo in macchina o in in pullman ma la polonia risponde anche molto all'altra esigenza che è la tendenza per i viaggi sempre più brevi e più frequenti perché la polonia è benissimo collegata con l'italia da quattro città italiane partono i voli diretti per addirittura tutte le città in polonia questo favorisce i city break la terza tendenza un po dei viaggi low cost che rispetto alla polonia io direi che si tratti di qualità prezzo gli alberghi che stanno adesso emergendo moltissimi perché la polonia colpì il positivo del 3 per cento 4 per cento del 2009 investe moltissimo nelle strutture ricettive per cui ci sono molti alberghi di 4 o 5 stelle al costo di tre stelle in italia per non parlare dei ristoranti di alta cucina o di cucina tradizionale con oppure con i chef emergenti e creativi dove si possono vivere le esperienze gastronomiche assolutamente ai prezzi accessibili quasi per tutti la polonia un'offerta molto ricca tra le città almeno cinque città molto diverse tra di loro con un'offerta o storica tradizionale come può essere cracovia oppure la città emergente varsavia che sembra manhattan con dei grattacieli realizzati dagli architetti più importanti del mondo o danzica che è una città gotica una città del mare del porto completamente diversa molto amata dagli italiani e così potrei citare almeno cinque cinque città in polonia quindi polonia come un paese sempre più fruibile per la clientela italiana è un paese che deve quindi coniugare la fruibilità con l'accessibilità di tutte le sue mete di maggiore attrazione ecco cosa ha predisposto la lott in termini di offerta aerea dall'italia buongiorno noi ovviamente per l'anno 2011 puntiamo su due tre quattro progetti più importanti il primo sarebbe un upgrading del volo torino katowice che accade già da prossimo lunedì noi offriremo l'aereo più grande con la capacità di 50 per cento di più verso la stagione scorsa così penso che questo dovrebbe favorire il traffico sia out coming sia in coming ovviamente l'altro progetto molto interessante il progetto di lanciare il nuovo volo regolare da verona per varsavia proprio due settimane fa abbiamo avuto l'incontro molto interessante con operatore dell'aeroporto di verona e in regione di trentino a varsavia e adesso stiamo lavorando sulla idea se tutto va bene speriamo di offrire questo volo per il prossimo inverno perché c'è la domanda sia del mercato italiano sia del mercato polaco è ovviamente il volo che che manca il terzo progetto è il volo roma cracovia che torna già perché non è stato operato la scorsa stagione ma inizia a operare anche anche quello volo da aprile ovviamente con la idea di beatificazione di nostro papa polaco speriamo di di poter vendere bene questo volo la quarta notizia è che abbiamo da poco introdotto una una politica tarifaria nuova così diciamo cosiddetta first minute che ci permette di vendere i bietti andate ritorno da 92 euro tutto incluso così è lo che ha detto la signora furdal che ovviamente la clientela italiana cerca sempre di più il prezzo così noi dobbiamo anche guardare alla concorrenza low cost per poter diciamo fare una concorrenza giusta con loro così diciamo questa offerta nuova first minute risponde proprio a questa a questa domanda diciamo siamo entrati quindi nel vivo dell'attività operativa che ruota intorno alla destinazione polonia allora cerchiamo di parlare anche del prodotto dei pacchetti di viaggio con cetnarski che è un grande conoscitore del mercato italiano quanti intanto quanti anni è che lei vive e opera in italia io lavoravo quasi 12 anni in italia promuovendo turismo verso la polonia adesso sono tornato in polonia c'è l'agenzia di viaggi holiday travel che si specializza nel turismo dall'italia verso la polonia ecco con quali con quali prodotti in particolare molto diffuse programmi sono programmi dei pellegrinaggi allora da questo momento quando giovanni giovanni secondo era papa da questo momento turismo religioso dall'italia verso la polonia aumenta ogni anno allora prepariamo itinerari per la cracovia per per cento cova ma anche ci sono offerte speciali per quelli che cercano qualcosa di nuovo per esempio adesso abbiamo preparato offerta per spai wellness è un turismo che si sviluppa ogni anno cresce e in polonia abbiamo tantissimi centri dove si può sfruttare questo questo destinazione queste spai wellness sono creati soprattutto lì dove c'è tervalismo vecchi centri di tervalismo lì si adesso crea questa centri spai wellness anche per quelli che cercano turismo attivo ci sono belle regioni per esempio laghi masuri sono regione nord est della polonia dove mille laghi boschi lì si può fare tante cose equitazione sul cavallo poi barca di vella poi ci sono itinerari per bicicletti allora ognuno di regione prepara prepara sua offerta e questo vendiamo in italia anche bene margherita continuiamo a parlare di prodotto sulla destinazione polonia come ente del turismo voi avrete sicuramente individuato quelli che sono i punti di forza dell'offerta turistica polacca avrete sicuramente studiato la clientela italiana quindi quali sono secondo voi le linee di prodotto ottimali per consolidare i primati turistici che ha raggiunto il turismo italiano verso la polonia sicuramente abbiamo prima di tutto partiamo dal presupposto che un po cambiato il modo di viaggiare non si va più a visitare semplicemente luoghi ma si vuole si cerca sempre di vivere un'esperienza l'esperienza vuol dire creare dei prodotti che non siano monotematici e quindi va benissimo un tour per come dire per le città culturali con gli eventi culturali perché ci vuole sempre qualche qualche motivo in più di una di un'attrazione turistica e basta e quindi seguendo i concerti ma a questo abbinare per esempio un soggiorno nello spa oppure il giro dei di laghi masuri che sono finalisti del concorso di sette meraviglie del mondo e quindi è un posto molto ricercato dagli italiani perché una natura incontaminata con una bellissima offerta enogastronomica con i prodotti locali su cui si investe sempre di più. L'italiano è un viaggiatore tutto sommato abbastanza difficile e molto esigente perché vuole una struttura di alto livello una struttura ricettiva per cui noi lanciamo molto itinerari che passano per dimore storiche, castelli in cui c'è la struttura ricettiva lanciamo moltissimo enogastronomico perché è un momento di boom veramente della ricerca in questo senso e quindi come dire queste due realtà da una parte le città d'arte con l'offerta molto contemporanea moderna dall'altra i laghi. C'è un'altra cosa che mi fanno notare i giovani che tornano dalla Polonia oppure non tornano perché scelgono di rimanere, che c'è un'offerta del divertimento molto forte ci sono solo a Wroclaw per esempio mille discoteche e sono molto accessibili anche per una rete funzionale di taxi che sono molto economici. Quindi da quello che diceva Margherita si deduce che la Polonia è sicuramente una destinazione alla portata di tutti. Lei prima, Andrei Kavoek, faceva riferimento a una tariffa particolarmente interessante ecco come dialogate con gli agenti di viaggio che sono gli interlocutori ideali per trasmettere la convenienza ma anche la qualità di una destinazione come la Polonia. Ovviamente agenti di viaggio, agenzie di viaggio sono il nostro canale principale che più o meno significa 90% delle vendite totali così noi lavoriamo sempre di più sul questo canale. Proprio il mese prossimo speriamo anche di fare una campagna marketing sul Travel People il portale proprio diciamo dei agenti di viaggi per far promuovere di più la destinazione di Polonia anche altri voli diciamo che ha aperto la lot per la parte di Europa centrale per esempio la Donetsk in Ucraina che ci sarà la città ospite dei prossimi europei di calcio 2012. Ovviamente speriamo anche di organizzare anche i fan trip uno è stato fatto proprio il mese scorso è stato accolto molto bene così se ci sono anche le altre esigenze se c'è la richiesta noi cerchiamo sempre dare la mano alle agenzie diversamente di ciò che fanno i vettori low cost che ovviamente è molto difficile di lavorare con gli agenti di viaggio così noi come linea diciamo regolare come compagnia di bandiera cerchiamo sempre di offrire qualcosa di più e ovviamente invitiamo anche gli agenti di chiedere i biglietti free se uno vuole visitare Polonia diciamo siamo sempre stiamo sempre molto aperti a offrire i prezzi super scontati per gli agenti e anche anche quelli sono stati richiesti l'anno scorso e sono stati sono stati fatti tanti viaggi con il buon risultato così ovviamente noi punteremo sempre di più ovviamente sull'online se si può perché con il marketing online diciamo verso le agenzie di viaggio è un'arma molto più efficace di ciò che si è fatto nello passato. Ecco a Cennaschi volevo chiedere una curiosità dal punto di vista squisitamente operativo nei rapporti con gli agenti di viaggio italiani che tipo di argomenti portate avanti per convincerli a proporre la Polonia da un punto di vista tariffario da un punto di vista di diversificazione delle proposte delle motivazioni di viaggio. Sì puntiamo anche il prezzo dei nostri pacchetti perché come già abbiamo detto prima i nostri alberghi 5-4 stelle sono a livello 3 stelle italiane allora possiamo offrire pacchetti sul prezzo abbastanza basso e per questo è interessante. Cerchiamo anche di offrire così pacchetti che presenteranno cose che non ci sono in Italia. Per esempio a sud della Polonia abbiamo molto interessante edile da legno, le chiese e le case soprattutto alla montagna. Questi oggetti sono molto interessanti per i turisti e per questo vengono per vedere. Poi in varie città hanno abbastanza ricchi programmi culturali ci sono concerti, ci sono festival, anche festival folcloristiche e anche questo è motivazione di viaggiare per Polonia. Margherita, sempre parlando di rapporto con le agenzie di viaggio, quali sono i progetti e le azioni promozionali che l'ente del turismo ha in mente di realizzare sul mercato italiano proprio per comunicare al meglio questa diversità di offerte e le tante opportunità e motivazioni di viaggio per la clientela italiana. Il modo migliore è comunque far vivere l'esperienza Polonia direttamente. Quindi noi investiamo molto nei educational che sono molto importanti perché gravano ancora sulla Polonia un po' stereotipi luoghi comuni che vengono completamente distrutti da chi va in Polonia ed è anche un modo migliore per un passaparola perché veramente la Polonia cambia completamente la percezione a chi vive l'esperienza di andarci quindi è molto importante. Chiaramente non possiamo offrire viaggi per tutti per cui siamo noi che cerchiamo di fare le presentazioni direttamente in tutte le regioni d'Italia cercando anche dei contatti B2B e quindi chiunque sia interessato alla Polonia può rivolgersi a noi noi possiamo anche andare a trovare e fare una specie di educational sul posto. Ovviamente le fiere B2B e TTG di Rimini. Ricordiamoci che quest'anno la Polonia è stata un paese ospite di ITB di Berlino, è stato veramente un grossissimo successo. Siamo anche molto attivi su internet sia sui social network che direttamente sui portali internet turistici e non solo per dare l'informazione più completa della Polonia per far capire la Polonia di oggi com'è, c'è la moda, stile, il gusto, i ristoranti, festival. Ci sono dei festival a cui si può partecipare pagando i biglietti veramente a un costo 5 volte inferiore a quello che potrebbe essere in Italia. La cosa molto importante per noi sono due eventi molto importanti che coinvolgono la Polonia. Quella immediata è la presidenza della Polonia nell'Unione Europea e quindi questo favorisce molto anche il turismo business di cui non abbiamo parlato e che è molto importante perché nelle città della Polonia, quasi tutte le città della Polonia, ci saranno dei vertici con incontri anche dei ministri del turismo, per esempio a Cracovia. Questo è un aspetto su cui punteremo molto. L'altro, altrettanto imminente, Euro 2012, con degli investimenti che la Polonia sta effettuando adesso sul territorio polacco nelle quattro città, che supera 20 miliardi di Euro. Questo significa che si sta investendo molto nella rete di aria, sarà aperta tra breve l'autostrada che collega Berlino con Varsavia, che vengono modernizzati gli aeroporti per non parlare di strutture ricettive. Ogni città sarà preparata con 200 mila posti per ricevere i tifosi. Quindi da una parte il turismo per lo sport dei tifosi, ma dall'altra anche una preparazione della Polonia per accogliere il turismo per tutte le fasce di settore. Tra l'altro, Margherita, il PIL della Polonia è uno dei segnali più evidenti di una economia emergente che fa del Paese un grande attrattore di investimenti. Quindi il segmento business, ma anche quello del turismo congressuale, immagino siano delle ottime opportunità di crescita per il vostro settore. Esattamente. Infatti stanno nascendo dei centri congressuali di grande portata a Wrocław o a Cracovia recentemente inaugurati, ma anche un po' più piccoli, ma nelle location particolari di castelli, di more storiche che favoriscono anche un turismo incentive. Una Polonia dunque dai tanti volti, tutti accoglienti, pronta ad ospitare un sempre più alto numero di turisti italiani con le motivazioni di viaggio che abbiamo ascoltato dai nostri ospiti che ringrazio e alla prossima puntata. Grazie. Grazie mille. Arrivederci in Polonia. Esatto, vi aspettiamo. La Polonia è molto ospitale. Ci vediamo in Polonia. Grazie. Grazie a tutti